Dove vuole andare Gabriele? Sull'autobus Prego, buon viaggio, vada vada, vediamo come se la cava Oddio, oddio mi sento male Signorina la prego, oddio Che succede? Che succede? Aiuto, che succede? Oddio, oddio, l'autobus mi fa male Oddio, oddio, la madonna Vedo la signorina, quant'è bella Oddio, oddio signorina Per favore, per favore, signorina Per favore Senta, mi accompagna a prendere un bicchiere d'acqua Per favore, se ti esatto male Beh, non posso dirle di no Grazie, per favore Bene, bravo Gabriele, ha visto il suo avversario?